Ciao a tutti, siamo tornati, Simona si fa i cavoli suoi, ormai è diventata coreana, quindi come coreani, maleducata, sta sempre al cellulare, guarda, non ho parole, sì sì è vero, è vero. Io sono Valentina, io sono Annalisa e noi siamo le Amby Old Sisters con two guests, say hi Monica and Simona, say ho ho, ok basta, basta, se li date il via mia sorella non la ferma più ho trovato anche la mia compagnia ideale che mi viene dietro, basta, continuiamo sulla scia dei giochini, sì 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 sì, perché a noi piace così, sì sì e soprattutto io punto, ho fatto un punto, al primo giochino ho fatto la mia prima figura da cioccolataia come dice mia sorella da quando abbiamo creato questo nostro canale e questo mi fa sentire veramente malissimo. Peccato va. Esatto, è stata lei la cattiva, mi ha rubato i leads con The Closer. E beh ma c'era il tizio lì, c'era il tizio. Il tizio! Per chi non lo sapesse tizio uguale bravi. Cancelletto. Bravi uguale non lo so. Marito. E ok, il prossimo giochino si chiama Guess K-Pop Song by Its First Five Seconds. E questa è una cosa che mi preoccupa alquanto perché io neanche in dieci ti vorrei dobbiamo cinci in cinque secondi. Indovinare una canzone dai primi cinque secondi. E sono pochissimi ragazzi. E se i primi cinque secondi sono na 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 na, boh, possiamo chiudere il mio. Siamo morte. È finita lì. Quindi, boh, andiamo. Proviamo. 3, 2, 1, vai con la figura da cioccolataia. JK, thank you so much JK for this game. No. 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 I guess. 32 punti in totale. Un punto a canzone e un punto per artista. Ok. Ah, l'ho fatto un po' più facile allora. Uno per artista e uno per la canzone? Si. Just right. Just right. E' vero. E' vero. Just right. adene' vero. No, 7. Just right.ей la soppertino ma after le mani avete fatto paura. Mi sono dimenticata. Cioè in ho visto dove le mani Ok, c'è oggi 홍林 lớpore. Aiuto. No, cosa neanche. Tira, 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 tira. No no, ma c'è sempre questa, oh? Il tuo tesio? Quels! Non conosco la canzone 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 Mamma mia È difficile Ah ok Density La nostra amica Mari Stella ci ucciderà Oddio sono piccoli anche questi No no per me non vanno bene Troppo piccoli no Noi li vogliamo vissuti Vissuti BDS Not today Not today No not today Ok No not today Questo Quindi due punti, tre punti, quattro punti Ok E' proprio personale Eh Sentiamo Sistar Check that No like that I think I like that Oh Veronica Ma come hai detto like that No I like that Devi dire il titolo giù Sì 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 Ehm Ehm Nooo Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Di Infinite infinite! no 5 secondi non è abbastanza ragazzi a me mi dice mi ci vogliono 4 secondi per collegarmi con l'estate 1 è un po' impossibile Yuna? no, però la conosco mister 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 che non lo so ok, go! GENERATION SIR mister 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 non è un altro 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 direttamente alla scuola non è un altro 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 bella honey ciao honey ma 5 4 stiamo vincendo di simona e b1e4 alai si ok alai io sono 7 si 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 la voce non mi dice niente 4 min ok anche questi quante cavolo sono no non sono tante ah 5 allora sono valeri si oddio quante sono 15 exo monster no 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 come me baby come me baby e c'è quella mano curiosa come me baby 5 quindi tu sei a 5 e 8 5 sei timida non sei timida nulla nulla non mi ricordo la canzone card hai indovinato un punto dai quindi 7 e 8 più delicato sei sei vabbè l'ultimo gruppo femminile ma non si come la voce come la voce e o e e o e non seguo le e o e dico io mamma ah 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 c'è il bonus the closer ma chi sono questi anche questi scappati dall'asilo ma si da un furgone no guarda la domanda sorge spontanea in corea ce n'è azienda i cantanti cioè anche da così giovane porca miseria no davvero tutti i cantanti cantanti femmine modelli porca miseria guarda come erano giovani questi lo sono fatti ne affirmeranno i genitori sicuramente non lo so cosa dire abbiamo vinto io e veronica però noi ci siamo fatti vedere noi abbiamo la presenza però non l'ha detta perchè è rimasta intimorita ah 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 mi è rimasto fattimo in pelletta colpa dei GOT7 non è colpa nostra è colpa dei GOT7 ci hanno risvegliato gli ormoni e Simona si è intimorita dal nostro il nostro lato fangirl può intimorire le persone povere pecorelle del credge si 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 e allora facciamo paura detto questo salutiamo l'avete proprio ammazzato il suo perchè da lì in poi però un poverina si è spenta si ma non mi sapevo altro si esatto welcome to my world e giocate insieme a noi scriveteci nei commenti quanti ne avete indovinate se il gioco vi è piaciuto e chi fra di noi è la vostra bias se il gioco vi è piaciuto a a a a alla prossima ti aspettiamo a a t a